Professore Massimo Perriccioli, il Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli, in visita questa mattina alla città di Torre del Greco per una riqualificazione ed una rinvenzione di spazi e di luoghi legati al senso di una tradizione secolare. L'idea è quella di riportare un po' l'attenzione su degli aspetti legati alla tradizione artigianale torrese, molto famosa, molto conosciuta nel mondo per quelli che sono i suoi prodotti, penso in particolare alla produzione del corallo, del cammeo, delle perle. Quello che noi vorremmo provare a fare con i nostri studenti, perché si tratta di un lavoro che svolgeremo all'interno di un workshop di un corso di laurea internazionale in lingua inglese, che si tiene presso il nostro Dipartimento, è un'operazione un po' diversa, cioè vorremmo provare a spingere verso una valorizzazione di tutto quello che c'è intorno alla cultura materiale di questa città, una cultura materiale che quindi si incarna in un processo, un processo produttivo che non può che partire da una importante presenza di un tessuto caratterizzato da piccole e medie imprese artigiane, ma soprattutto da un aspetto formativo che viene da molto lontano. Proprio stamattina abbiamo visitato con i nostri studenti il bellissimo Museo del Corallo e siamo stati accolti dalla preside, dalle professoresse e da tutti gli artigiani che formano queste nuove leve, questa nuova generazione di artigiani. Siamo stati accolti in maniera veramente entusiasta e entusiastica e i nostri studenti sono rimasti proprio colpiti da un aspetto, l'aspetto proprio del processo, del processo produttivo, di questo lavorare con mano, mente e cuore, come dicevamo nel corso dell'incontro, ed è questo che noi vorremmo far venire fuori, valorizzare attraverso degli interventi temporanei, di allestimento temporaneo, all'interno di un edificio del complesso meridionale di Marzoli dove ci troviamo, per provare a riavvicinare non solo e non tanto la cittadinanza a questo tema legato appunto alla cultura materiale della nostra città, ma quanto quello di provare a internazionalizzare questo processo e farlo camminare accanto a quello che già il processo di internazionalizzazione ha molto avviato nel campo della commercializzazione dei prodotti del Corallo e del Cammeo. Perché la città di Torre del Greco? Beh, innanzitutto che io sono di Torre del Greco e questo non è poco. Sono rientrato alla Federico II da pochi anni e ho deciso di spendere gli ultimi anni della mia carriera accademica per dare una mano alla mia città. Secondo perché credo che Torre del Greco sia una delle realtà più interessanti nel panorama italiano ed europeo proprio in questo settore. Ho visitato molti posti in giro per il mondo in cui con pochissimo si è creato tantissimo. A Torre del Greco abbiamo tantissimo e non riusciamo a creare nulla. L'idea sarebbe quella di dare un piccolo, piccolissimo contributo per quello che può dare un piccolo corso di laurea in design di un'università a spingere verso questa nuova frontiera e provare a far emergere ricchezze, saperi, conoscenze, competenze, abilità non solo manuali ma anche intellettuali che rendono ricco questo territorio e ne potrebbero fare, secondo me, un posto unico al mondo. Vincenza Uccella, presidente Asso Coral di Torre del Greco. Un momento importante questa mattina. Il Dipartimento della Facoltà di Architettura viene a rivalorizzare spazi e ambienti della città per coniugarli ad un'arte secolare che è il sapore di questa gente. Quando si tratta di valorizzare e di parlare della nostra arte ma di quello che è il patrimonio non solo artistico ma anche strutturale di Torre del Greco abbiamo risposto subito presente. Un progetto davvero interessante soprattutto perché vede qui presente a Torre del Greco circa 30 studenti provenienti da tutto il mondo per un case per studiare quello che magari per tanto tempo ha visto la promozione di tanti progetti magari puramente partiti dal basso da Torre del Greco invece magari con un occhio più internazionale magari vediamo questi ragazzi cosa riescono a sviluppare per in questo caso i molini meridionali Marzoli e in che modo integrarli in quello che è la storia e il tessuto produttivo di Torre del Greco. Noi oggi siamo felicissimi ma ci sentiamo anche naturalmente obbligati a portare avanti ed ospitare questa iniziativa perché abbiamo la stessa mission cioè quella di raccogliere e mettere insieme quelle che sono le potenzialità e gli spunti che questo territorio ci rappresenta ancora potenzialmente inespresso quindi raccogliere e valorizzare quello che è il nostro patrimonio immateriale per ragionare su una strategia di sviluppo territoriale quindi noi accogliamo questa iniziativa come la previsione di una progettualità concreta che possiamo accompagnare di cui siamo felici di far parte questa mattina.